Si parlerà delle opportunità e le prospettive del super bonus 110% per lo sviluppo del Molise in un'ottica di transizione ecologica nel dibattito in programma per venerdì 25 marzo nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Il Movimento 5 Stelle Molise incontrerà i rappresentanti delle istituzioni, degli organi professionali e delle amministrazioni locali per fare il punto sulla misura che, dati alla mano, sta spingendo la ripresa economica del Paese. All'evento, moderato dal vicepresidente del Consiglio regionale del Molise, Angelo Primiani, sarà presente anche il deputato Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ispiratore del super bonus 110%. In un momento come quello attuale, che vede una forte oscillazione dei prezzi legati all'energia, è quanto mai necessario puntare sulla transizione ecologica. Abbiamo, in questi anni di governo, fortemente puntato sulla misura del super bonus 110% ed oggi stiamo iniziando a vedere alcuni cantieri attivi e alcuni cittadini che stanno finalmente iniziando ad effettuare i lavori. La misura attualmente sta vivendo una fase di incertezza, va rifinanziata e promossa per il futuro. Per questo motivo abbiamo inteso organizzare un incontro con l'ideatore della misura, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, che sarà presente venerdì 25 a Campobasso presso la Sala della Costituzione della provincia. È un'occasione sicuramente utile per entrare un po' più nel dettaglio delle questioni e per parlare con i tecnici e con i professionisti che stanno operando direttamente ed in prima linea per l'attuazione di questa misura. Anche in Molise il super bonus sta mostrando i suoi benefici sull'economia e sull'occupazione, ha detto Primiani, ma i temi da affrontare e da chiarire non mancano. Il nostro obiettivo, ha detto quindi, è quello di mettere insieme i cittadini, i tecnici, istituzione e politica per evidenziare i benefici dei bonus ed iri, fare il punto sulle ultime novità, raccogliere le necessità di chi lavora con e sui cantieri. Ma soprattutto, ha concluso Primiani, vogliamo dare risposte e fornire chiarimenti sui tempi e le modalità attraverso le quali chiunque possa approfittare dei vantaggi del super bonus e di tutte le altre misure del settore.